Ciao a tutti, come state? Spero siate tutti stra benissimo e che vi vada tutto bene. Allora, erano ben quattro mesi che non pubblicavo un video e adesso sono qui per darvi comunque delle motivazioni. Vi avevo già detto in qualche video precedente che avevo dei problemi, vi avevo anche spiegato che riguardava a livello lavorativo. E adesso cerco di darvi in maniera molto breve e concisa le motivazioni. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi perché nonostante la mia assenza siamo cresciuti come canale. Siamo arrivati quasi quasi, manca pochissimo a mille, una cosa che assolutamente non ci pensavo. Fino a quattro mesi fa, se non sbaglio, eravamo su 600 e adesso vedere che siamo 900 e rotti mi fa un enorme piacere. E ho anche il piacere, il fatto che in questi mesi, anche se non ho caricato il video, sono sempre stata dietro al canale. I commenti che magari mi avete scritto su qualche vecchio video, ho sempre cercato di starvi dietro e rispondervi. E vi ringrazio tanto perché comunque li guardate. Appunto il motivo per cui sono dovuta star lontana dal canale è il lavoro. Ho avuto una serie di problematiche lavorative, nel senso non prendere lo stipendio, comunque prenderlo ogni tre mesi se andava bene. Un forte stress, un'ansia veramente continua. Fino a che il primo di novembre ho deciso di non lavorare più lì dove ero perché era diventato una cosa allucinante stare lì. Comunque c'erano anche delle problematiche tra il titolare, i soci, una cosa veramente una ditta assurda. E continuare lì, ci perdevo io proprio, andavo via di testa. Io mi svegliavo alla mattina veramente con l'ansia di andare a lavorare perché ogni mese dovevo giustificarmi, addirittura giustificarmi, è la parola esatta, per richiedere lo stipendio. Cosa che è assurda, quanto è il 10, tra il 10 e il 20, mettiamo così, del mese, prendi lo stipendio e lo prendono tutti senza dare le motivazioni. Perché io non ti devo dire che ogni mese ho bisogno di soldi perché devo campare, perché devo pagare l'affitto, perché devo pagare le bollette, perché devo pagare la rata della macchina, per dire. Cioè, non ha senso. Poi ci sono state comunque delle problematiche interne della ditta, che secondo me è proprio sbagliata la gestione. Quindi ho detto, basta, basta, perché veramente la vivevo con un'ansia. Già sono ansiosa di mio, ma quest'ansia mi triplicava nella mia testa. Non volevo dare comunque anche un'angoscia, anche mio amoroso, perché anche lui ovviamente ero preoccupato. Per me, per la situazione è tutto, quindi ho lasciato anche perché non so se stanno chiudendo o comunque se trasferiscono a Milano addirittura. Quindi era una cosa comunque nel giro di breve. Però fatto sta che lì ero in nero e quindi non ho né liquidazione né disoccupazione, niente. Quindi sono un po' nella cacca. Per cui, questo diciamo è il motivo appunto per cui ho dovuto mettere un attimo da parte YouTube, perché comunque non avevo, cioè, quei soldi che riuscivo a prendere una volta ogni tanto. Dovevo pagare tutti gli arretrati di bolletto, cose che avevo. Quindi non potevo spendere per comprare, per dire la resina, anche se mi manca veramente tantissimo, perché vorrei tanto creare. Vedo sempre video delle solite creative che seguo con affetto, che creano cose in resina, stampi bellissime, eccetera. Io non posso farlo, è una cosa che mi fa male un po'. Però, insomma, questa è la motivazione. Ripeto, ho passato questi mesi veramente con tanta, 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 tanta ansia e ho detto, sono fermata un attimo, ho detto, ho 30 anni, se io devo campare d'ansia, faccio prima a farmi la fossa e buttarmi lì e buonanotte. Per cui adesso ho ragionato con me stessa e ho detto, devo calmarmi, cercarla di vivere con più serenità. So che è un problema grosso del lavoro, so che non sono da sola perché c'è il mio amoroso, c'è la mia famiglia, ci sono i suoi genitori, c'è gli amici, c'ho tante persone che comunque mi sostengono e mi aiutano, quindi sola non sono. È un problema che comunque non attanaglia solo me, ma attanaglia l'Italia, perché purtroppo siamo veramente nella cacca, 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 purtroppo è così. Io adesso tutti i giorni sto mandando in continuazione curriculum, sto rompendo i coglioni alle agenzie interinali, seguo tutti i giorni il centro per l'impiego, sto facendo anche tanto passaparola perché anche quello è importante e adesso ci vuole solo quel pizzico di fortuna perché veramente adesso per trovare un lavoro devi avere quella botta di culo per trovare qualcuno che ti prende a lavorare, perché veramente è così, almeno qui nella mia regione, io sono nelle Marche, neanche siamo al sud perché al sud so che sono messi ancora peggio, ma anche qui veramente è una cosa allucinante, ma soprattutto per noi donne, cioè io mi sono sentita, ho fatto dei colloqui, devo avere anche delle risposte, ma mi sono sentita dire delle... cioè c'è un pregiudizio sulle donne che veramente... io non so veramente dove... quante volte ho detto veramente... non so dove andremo a finire perché ai 30 anni ti vedono come una che adesso vai in maternità e che ti sposi, che prendi giorni, di qua, di là, boh, 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 questi sono i discorsi che mi sono sentita dire. Io voglio dire ho fatto ragioneria ma non mi frega più niente di farla ragioniera, andrei a fare tranquillamente l'operaio in fabbrica, lavorare in un supermercato, fare la commessa, quello che capita veramente, è cosa che ho già fatto tra l'altro, perché a parte questi sei anni da impiegata in questa ditta io ho fatto la commessa in un negozio di abbinamento e calzatura ho fatto la gelataia, ho lavorato in un negozio al mare ho fatto la babysitter quindi sono una che cerca sempre di adattarsi a quello che trovo senza problemi personalmente io non ho aspirazioni lavorative quello che vorrei di più al mondo è avere una famiglia ma vedo che se il mondo va avanti così qui ciaone quindi insomma le problematiche appunto sono queste anche perché vorrei cercare di non arrivare a pesare a mio moroso e soprattutto anche alla mia famiglia perché ritornare a vivere con i miei sarebbe un problema veramente enorme non sappiamo dove mettere il cane perché con la mia cagnolina la chiera non va d'accordo io star senza di lui, non lo so mi fa, cioè mi è andato a piangere solo a pensarci dai miei genitori quando sono andata via io è andata a viverci mia nonna perché è stato poco bene quindi non avrei neanche un letto dove stare quindi è una situazione molto molto pesante insomma queste sono tutte una serie di motivazioni per cui mi hanno fatto mettere da parte il tubo questo è però con questo video volevo dirvi che cerco adesso di essere più presente perché vi ripeto ci tengo tantissimo perché comunque è il mio piccolo momento di svago dove posso fare delle cose che mi piacciono tanto posso esprimere la mia creatività in modo sempre molto molto semplice perché io faccio cose semplicissime però è una cosa che non voglio abbandonare perché so che mi fa stare bene in questo momento stare comunque un po' serena, tranquilla è quello che mi ci vuole perché comunque è sbagliato vivere questa situazione o qualsiasi altra situazione con questo tipo di ansia ci vuole anche un momento di keep calm e fai un video su youtube insomma questo è chiudo questo discorso visto che si sta avvicinando il periodo dei natali sto già iniziando a pensare a cosine da creare l'anno scorso vi ho fatto vedere alcune cose magari qui sotto nell'info box vi metto le creazioni dell'anno scorso mi pare che avevo fatto anche un tutorial poi avevo fatto altri video su alcune cosine che avevo fatto e anche quest'anno sarà così vi faccio vedere l'anteprima di una cosa che andremo a fare insieme eccolo qua non è un uovo di gallina non è un uovo di struzzo è un uovo di gesso allora visto che stavo mettendo a posto la mia stanzina con tutti i miei chaffi creativi ho trovato una sacca di gesso ho detto ok non ho i soldi per comprare cosine usiamo quello che troviamo ho il gesso creiamo delle palline in gesso sono veramente molto molto leggeri sono delicate ovviamente non è che la puoi lanciare contro il muro però è molto leggero quindi non è che appesantisce scusate non appesantisce l'albero vedremo come andremo a decorarla e appunto questo sarà uno dei primi tutorial poi ho pensato ad altre cose creandole con la pasta altre cose creandole con delle cosine che troviamo in mezzo alla strada adesso non pensate male però sono cosine che ho visto molto carine molto semplici economiche ovviamente che però possono uscirne delle cose molto 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 carine con un pizzico di creatività si riescono a creare a creare cose deliziose quindi questo adesso non so spero e penso di caricare almeno un video creativo a settimana soprattutto che il Natale ormai in convenso questo weekend mettiamo sull'albero e ve lo farò come ogni anno vedere sarà adesso questo weekend sarà un albero base con quello che ho poi piano piano inizierò a creare le cose e poi metterle su e questo lo faremo insieme come sempre e niente questo è tutto vi mando un bacione e ci vediamo molto presto ciao ciao